Cari amici telespettatori in visione e ascolto, volevo commentare la scorsa puntata di tale quale che è stata bellissima, una grandissima Andy Agnelillo che ha fatto Branduardi, ma ha vinto un grandissimo Filippo Bisia che ha interpretato Liga 2 magistralmente, complimenti per tutto. Sono state belle anche le scorse puntate di tale quale che mi sono piaciute molto e devo dire che finora è bella tutta l'edizione come sempre ed è un grande successo per Rai 1, sorprendentemente, sempre più bravo Gabriele Civilli e simpatico così come sono bravi tutti gli altri. Per ora e solo per ora dal vostro Samuele Cognolato è tutto fino allo studio.